Questa collaborazione nasce nell'ambito del progetto per i festeggiamenti dei nostri 60 anni di attività. Nel 2024 ricade infatti l'anniversario di fondazione della nostra società e in quest'ottica abbiamo deciso di, tra le varie iniziative, dare anche un aspetto sociale ai nostri festeggiamenti. Quindi è partita da un'idea, da quella di far realizzare ai ragazzi dei centri diurni del labirinto una rivisitazione del nostro logo che servisse appunto come logo per festeggiare i 60 anni di attività e la realizzazione anche di alcune t-shirt celebrative che poi saranno chiaramente vendute, regalate e che speriamo possano essere il più possibile visibili e diffuse durante tutta questa stagione estiva. Noi nei nostri centri lavoriamo principalmente per supportare e per sviluppare le competenze, quelle autonomie per tutte le persone che lo frequentano. Quindi il fatto di avere un riconoscimento esterno e di comunque avere visibilità nel territorio è molto importante per i progetti educativi stessi. Come avrete visto oggi i ragazzi erano molto emozionati del presentare il progetto cui hanno lavorato veramente con tanto tanto impegno.